Nuova Coleus è un esempio dell'eccellenza Renault in materia di sicurezza. L'obiettivo è quello di ottenere la valutazione a 5 stelle nelle prove URENCAP. La struttura rinforzata consente di proteggere l'abitacolo da eventuali danni assorbendo l'energia sviluppata in caso di collisione. Il cofano, il paraurti anteriore e i fari sono stati studiati appositamente per proteggere i pedoni in caso di urto. È previsto un equipaggiamento completo di sicurezza passiva che prevede due airbag frontali, due airbag laterali torace e due airbag a tendina nel vano anteriore e in quello posteriore. Le cinture di sicurezza sono dotate di pretensionatori e limitatori di sforzo. E i poggiatesta di prima fila prevedono la funzione anticolpo di frusta. I due sedili della seconda fila prevedono fissaggi Isofix con tre punti di ancoraggio.